è stata una notte magica in 1400 per il terzo appuntamento con we law 90 la festa che celebra i miti dance di quel decennio il tomato di sottomarina è stata la location che ha ospitato la festa ideata da chioggia tv mascalzoni marini e radio bcs e organizzate in collaborazione con claudia piscine fitness l'agenzia di viaggi l'isola del sole gruppo liliana eo center qm vision e fotografiche la serata è iniziata con la cena accompagnata dalla musica italiana e conclusa dalla degustazione di una specialità tutta locale come le creme fritte le esibizioni di salsa della scuola rosso latino hanno scaldato l'atmosfera in attesa degli ospiti della serata we love 90 ha voluto inserire da questo appuntamento il live dedicato a quei personaggi che con le loro canzoni ci hanno fatto ballare in quel magico decennio è la musica infinita il sonido di valentia questo è baracca baracca destroy protagonisti della serata sigride con il progetto baracca destroy e sound lover non è così sono Noi, noi, noi. Pochi minuti dopo la mezzanotte sale in console Mr. Ricky e iniziano le danze. Le canzoni più belle degli anni 90 scaldano la pista e nel locale si respira aria di festa. We Love 90, le notti magiche di Sottomarina.